Musica Ultimo weekend di maggio all'insegna del freddo, del vento e della neve. Bene sì e non siamo in inverno, ma in primavera la colpe di Ginevra, impulso di aria fredda che dal nord Europa ha già raggiunto il nord Italia. In Lombardia entri Veneto da stamane piove e nevica addirittura a quote collinari si inverso i 600 metri sulle Alpi e gli 800 metri sulle Prealpi. A Milano rileva il meteo.it sotto il temporale, la temperatura è scesa di 6 gradi, non accadeva da 30 anni a maggio e a Venezia diluvia con la Bora e con 10 gradi. Il maltempo imperverserà al nord-est fino a sera, al centro-sud fa ancora caldo, ma domani giungerà il cuore di Ginevra, poi tornerà il sole. La domenica sarà più soleggiata al nord con le ultime piogge rovesce temporali, transiteranno al centro fino alla Campania. L'inizio della prossima settimana sarà soleggiato, ma nuove perturbazioni sono in agguato. Per l'estate bisogna attendere comunque giugno con l'attesa ondata di caldo anomalo.